La Regione Toscana ha restituito alla popolazione della Lunigiana i due ponti di Mulazzo e di Castagnetoli, distrutti dall'alluvione del 2011 e ricostruiti con un investimento complessivo di 7 milioni e 600 mila euro. Una giornata di festa iniziata con la firma per consegna ufficiale delle due infrastrutture alla provincia di Massacarrara e ai comuni di Pontremoli e Mulazzo. Poi il taglio del nastro alla presenza dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e dei rappresentanti delle istituzioni locali. I due ponti si aggiungono a quello di Stadano, consegnato dalla Regione il 28 luglio scorso concludendo un intervento di ricostruzione concepito come unitario fin dall'inizio. Il ponte è un'infrastruttura che dà il segno tangibile dell'uscita dall'isolamento, un isolamento che queste popolazioni hanno dovuto subire per alcuni anni seppur mitigato dalla realizzazione di due guadi che sono stati costantemente tenuti in funzionamento. Il ponte di Mulazzo è sospeso sul fiume Mangiola, senza piloni intermedi per evitare l'ostruzione dell'alveo del torrente. Si sviluppa su una campata libera di 100 metri più una campata laterale di 24 e una rampa. I lavori sono iniziati nel maggio 2016 e si sono conclusi con quattro mesi di anticipo con un costo di 5 milioni e 300 mila euro. Anche il ponte di Castagnetoli è sospeso e si sviluppa su una campata libera di 50 metri più una rampa d'ingresso di 18. I lavori sono iniziati nel settembre 2015 e sono terminati nel luglio 2017.